Ben ritrovati, continuano gli appuntamenti in web conference con gli amministratori del Cilento per discutere della situazione attuale legata all'emergenza coronavirus, ma anche per fare il punto della situazione sulle attività amministrative. Oggi ci colleghiamo con il consigliere d'opposizione del Comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti. Ben trovato Nicola. Grazie per avermi invitato. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, però io vi seguo e vi faccio i miei complimenti per la trasparenza e per la comunicazione ottima che fate. Grazie Nicola. Allora, partiamo subito nel commentare questa decisione della Regione Campania e quindi del Presidente Vincenzo De Luca di ritornare in presenza per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda l'infanzia e le prime classi della scuola elementare. Che cosa ne pensi? Da mercoledì ci sarà la ripartenza anche se dobbiamo sottolineare che molti sindaci del Cilento hanno già firmato delle ordinanze che fino al 3 dicembre non sarà possibile la didattica in presenza. Sinceramente è una notizia che non mi aspettavo e credo che un po' tutti non si aspettavano, non solo da quello che era trapelato interpretando un po' le parole del Governatore nel fine settimana, ma sinceramente anche attraverso un'istruttoria non completa ma da una prima istruttoria, da prime notizie, insomma emergeva in maniera palese, in maniera forte che le scuole avrebbero avuto ancora una volta una proroga per quanto riguarda la riapertura. Io sono assolutamente, ero, sono e sarò sempre in questo periodo per la chiusura delle scuole e quindi per la continuazione della DAD, non può essere diversamente. È vero che la curva inizia a calare ma proprio perché inizia a calare dobbiamo essere assolutamente ulteriormente responsabili e chiedere un ulteriore sacrificio. È ovvio che la mia è la voce, diciamo, anche di un amministratore locale, so che quando si prendono certe decisioni lo si fa in sinergia e confrontandosi con esperti. Infatti sapevamo che oggi l'unità di crisi avrebbe proprio valutato i dati del monitoraggio che è stato fatto su, tenuto conto ai giorni scorsi, no, tutti sappiamo che è stato fatto uno screening sui docenti, a base diciamo volontaria, sui docenti, no, ma sui genitori e su alcuni bambini sì, per cui chiaramente avranno appatato per questo. Vallo per dire ha fatto l'ordinanza perché noi possiamo anche dire questo, insomma, che fermo restando il provvedimento, insomma, della regione, e quindi chiaramente l'ordinanza regionale che prevede la repertura per mercoledì 25, sappiamo però che è data facoltà e possibilità ai comuni di decidere in maniera diversa, per cui tanti comuni, come bene dicevi tu, hanno appatato per una soluzione diversa, tra cui pure Vallo della Lucania. Io non l'avrei fatta stamattina l'ordinanza, ma l'avrei fatta anche qualche giorno fa, perché sappiamo poi tutta l'organizzazione che c'è dietro la scuola, per cui secondo me i tempi vanno un pochettino giustificati. E quindi dico che per fortuna Vallo l'ha fatto e mi pare che fino al 3, mi pare, le scuole restano chiuse. Io mi auguro che si possa andare anche oltre il 3 dicembre, capisco tutte quante le difficoltà. Non me ne voglia nessuno, non me ne vogliono i genitori. Io assolutamente sono anche io un papà di due bambini e io, a prescindere, ma i miei due bambini non andranno a scuola. E non andranno a scuola perché sono ben coscio del problema che oggi la scuola può determinare per quanto riguarda questo brutto e maledetto virus. Io credo che oggi dovremmo fare delle attività politiche rafforzative durante la sospensione dalle elezioni in presenza. Potremmo rafforzare alcune attività, potremmo stare più vicino alle famiglie anche aiutandole a gestire meglio il proprio lavoro o a gestire meglio anche problemi perché non ci dimentichiamo che ci sono famiglie che addirittura hanno problemi con internet, ci sono famiglie che hanno più bambini e hanno difficoltà con i computer. Allora io non sento mai parlare di queste cose. C'è troppo una fase statica della politica locale, territoriale e locale e tutti che aspettiamo questi provvedimenti nazionali e regionali quasi chiaramente a prendere un po' con le distanze da quello che è la reale esigenza di una comunità. Per cui io mi auguro che Vallo e altri sindaci possano optare per questa soluzione. Ma sai perché, perdonami se probabilmente sono un po' più lungo, perché tutto ciò va collegato con altre problematiche. Noi oggi abbiamo il problema scuola che è collegato necessariamente, inevitabilmente, in maniera forte, con quello che è il problema sanità. Noi abbiamo delle grosse difficoltà, per cui secondo me, non secondo me, ma lo dicono gli esperti, medici, professionisti, che dobbiamo noi gestire meglio questa epidemia stando attenti. E stando attenti significa fare dei sacrifici, tipo non riaprire le scuole in questa fase, che si arriva al 10, al 15, 20 dicembre, dove poi chiaramente ci sarebbero state le vacanze natalizie. E quindi il sacrificio per altre tre settimane lo possiamo fare. Io capisco che questi bambini hanno difficoltà. Io vedo mia figlia che ha 10 anni, la difficoltà che vive, è sola da tanto tempo, insomma, chiaramente vive una situazione di chiusura in una cameretta a studiare, a fare lezioni la mattina. Però oggi noi stiamo facendo dei sacrifici importanti che valgono la sopravvivenza, che valgono la salute, che valgono chiaramente la possibilità di difenderci.